E allora da questo numero partiamo con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ringraziamo per aver accettato l'invito di Zona Bianca. Buonasera Meloni. Grazie, buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, se questa cifra, se questi 10 milioni rimangono ancora tali per un po', direi che l'obbligo vaccinale sarà una necessaria conseguenza o no? Ma guardi, io non sono favorevole, come ho detto, all'obbligo vaccinale, particolarmente non sono favorevole per i vaccini Covid, perché noi sappiamo che la grande differenza che esiste tra i vaccini Covid e i vaccini per i quali esiste l'obbligo, e che per sgombrare il campo, per esempio, ho fatto fare con assoluta convinzione da mia figlia quando è nata, è che i vaccini anti-Covid hanno un'autorizzazione condizionata. Perché mancano alcune fasi della sperimentazione, come è normale che sia, perché normalmente, diciamo, il vaccino ha un percorso molto lungo, a differenza di quelli che noi appunto siamo abituati a conoscere, che hanno un'autorizzazione regolare. Alcune fasi della sperimentazione di questi vaccini finiranno nel 2023 addirittura, e quindi io credo che bisogna essere prudenti, che bisogna valutare il rapporto rischio-beneficio, sul quale oggi chiaramente nessuno è in grado di dare delle certezze. Dopodiché, sicuramente, se il governo si sente convinto e sicuro, mi scusi, mi scusi, finisco un attimo il ragionamento. Poi la faccio terminare. I vaccini sono stati comunque, tra virgolette, sperimentati su 5 miliardi di persone, e comunque, per esempio, l'FDA ha dato, l'ente americano ha dato un'autorizzazione, che adesso c'è, esiste. Poi le lascio concludere il suo discorso. Ma guardi, si chiama, e io le ho detto una cosa che è un fatto, non è un'opinione, si chiama autorizzazione condizionata. Autorizzazione condizionata alla fine delle sperimentazioni, che non sono state fatte. Ora, io non voglio dire con questo, non voglio allarmare nessuno, ma è evidente che, siccome parliamo di un tema delicato, non può essere un tema ideologico. Deve essere un tema affrontato con un po' di serietà. Perché in Italia diventa tutta una questione ideologica. Qui parliamo della salute delle persone, ok? Quindi, io faccio delle valutazioni da persona, diciamo, che si deve assumere delle responsabilità per quota parte, sulla base delle informazioni che ho. Non sono uno scienziato, non sono un virologo, quindi leggo quello che mi dicono le autorità competenti. Quello che le autorità competenti dicono su questi vaccini è quello che io le ho segnalato. Per esempio, scusi, perché ci sono delle cose sulle quali adesso uno deve fare delle domande, e poi per il fatto di fare delle domande, siccome nessuno è in grado di risponderti, diventi automaticamente un mostro. Noi abbiamo un Green Pass sul quale il governo stabilisce che il Green Pass vale 12 mesi. In pratica dice il governo che la copertura vaccinale vale 12 mesi. Ma si prova, per cortesia, a collegare sul sito dell'AIFA e dell'EMA e mi dice se lei è in grado di individuare sui siti delle organizzazioni competenti quale sarebbe, secondo loro, la copertura vaccinale? Perché nessuno le sa rispondere su questo tema. Allora, lei capisce che sono questioni serie. Il Green Pass include anche il tampone, mi scusi il bisticcio di parole, per cui è chiaramente una materia da trattare con molta attenzione, con molto tatto. Fermi, il Green Pass. Maneggiare con cura. Il Green Pass include il tampone, il Green Pass include il tampone, se il tampone è gratuito. Perché se invece il tampone continua a costare, il Green Pass il tampone non lo prevede. E questa è un'altra cosa sulla quale Fratelli d'Italia ha fatto una battaglia, perché noi abbiamo detto come sono gratuiti i vaccini, rendiamo gratuiti anche i tamponi, intanto perché i tamponi sono sul piano della sicurezza rispetto alla impossibilità del contagio, un tampone negativo è più sicuro del Green Pass con vaccino, già che sappiamo che purtroppo con il Green Pass non è detto che chi è vaccinato con seconda dose non possa contagiarsi e non possa contagiare. Abbiamo chiesto, così si sarebbero eliminati tutti i problemi e anche le discriminazioni verso per esempio chi non si può vaccinare, chi magari le donne incinta, piuttosto che chi sta allattando, alcune persone per le quali in determinate condizioni può essere sconsigliato. Sa che mi ha risposto il Governo? Il Governo mi ha risposto che i tamponi non si possono rendere gratuiti perché è un disincentivo verso il vaccino. E io anche questo non lo capisco, perché l'obiettivo del Governo non è vendere il vaccino, l'obiettivo del Governo è fermare il contagio. Avvengono delle cose irragionevoli. Dopodiché io comunque ritengo che se il Governo è sicuro di quello che sta facendo, ebbè perché non dice chiaramente? Guardate signori, vacciniamo tutti, introduciamo con il Green Pass l'obbligo surrettizio di vaccinazione, oppure introduciamo l'obbligo vaccinale, sia chiaro che il Governo è pronto a indennizzare se qualcosa va storto. Perché il Governo non lo dice con chiarezza questo? Perché alcuni, diciamo, dei responsabili di queste case farmaceutiche chiedono addirittura di essere scudati? Allora, io faccio domande semplici, guarda, e non faccio domande perché sono no-vax, perché è difficile sostenere che qualcuno che si è vaccinato sia no-vax. Faccio domande perché, ripeto, bisogna valutare le cose con serietà. Quello che sta, secondo me, atteso che noi abbiamo dati di vaccinazione superiore alla media europea, per cui anche il dato che davate voi, che può sembrare un dato allarmistico, in realtà non è così allarmistico. Guardi che in Italia le cose sono andate dall'inizio meglio di come non stiano andando nel resto d'Europa. Dove vale la pena ricordare ai nostri ascoltatori che nessuno parla di obbligo vaccinale nel resto d'Europa e nessuno al netto della Francia usa il Green Pass per decidere se puoi andare a prendere il caffè oppure no. È una scelta solo italiana e per il Green Pass francese. Quindi domanda, scusi, ma Angela Merkel, che è favorevole alla campagna vaccinale e contraria all'utilizzo del Green Pass come lo usa Mario Draghi, è esattamente la mia posizione. Anche Angela Merkel ha micca i Novavax, come viene detto a me ogni giorno, anche Boris Johnson, anche Sanchez il presidente spagnolo, anche la Grecia, anche tutte le altre nazioni europee. No, semplicemente sono persone che credono, ritengo io, che la campagna vaccinale sia molto più efficace se viene fatta informando le persone, non facendo la confusione che abbiamo fatto noi per poi passare direttamente all'imposizione. Perché questo modo aggressivo di fare questa campagna secondo me non sta aiutando a far vaccinare le persone, cosa buona e giusta. Faccio due eccezioni a Meloni. La prima è che comunque il discorso Boris Johnson e quindi Gran Bretagna è un po' diverso. Ieri ha detto no Green Pass, ma praticamente il sottotesto è che qui abbiamo una campagna vaccinale che è andata praticamente avanti, speditissima. Quelli vaccinati possono riprendere a vivere, quelli non vaccinati, tra virgolette, peggio per loro, che è un discorso abbastanza cinico, ma fare sia... Sì, ma c'è l'obbligo in Gran Bretagna, scusi, c'è l'obbligo? C'è il Green Pass come da noi? No, assolutamente no. No, è esattamente quello che le ho detto. Poi le dichiarazioni dei politici sono un altro tema. Però sono vaccinati quasi tutti. Che si facciano le dichiarazioni per convincere le persone... Ma anche da noi è vaccinata a buona parte della popolazione. Scusi, siamo sopra il 70% di vaccinazione. Guardi che è un dato alto. Vado a guardare il resto d'Europa. Cioè, mi pare che le cose stiano andando bene. Gli italiani, dall'inizio... Beh, evidentemente non basta quello che sta facendo il governo. Non è che non basta per vaccinare. Ripeto, secondo me la campagna di vaccinazione se fosse stata fatta informando, non facendo confusione, spiegando alle persone, tranquillizzandole, piuttosto che dire ah, a chi non si vaccina gli togliamo i diritti sanitari. Come ha detto la sinistra. Se non ti vaccini non ti va con la terapia intensiva. Cioè, secondo me sarebbe stato un modo più efficace di affrontare questa materia. Perché comunque parliamo della salute delle persone vanno convinte, vanno convinte con... diciamo così, accompagnandole. Dopodiché, a me pare che questo tema del Green Pass, mi scusi, sia in realtà una grande arma di distrazione. Cioè, noi parliamo da settimana e solo di Green Pass. Ok? Perché? Perché è il tema ideale sul quale creare delle tifoserie. Perché serve parlare solo di Green Pass? Forse perché così non si deve dire che il governo non sta facendo e non ha fatto anche quest'anno quello che bisognava fare sulla scuola, sui mezzi pubblici. Scusi, posso fare una domanda io a lei? Come interpreta la dichiarazione del ministro dei trasporti, Giovannini, che ci dice che sui mezzi pubblici il Green Pass non serve perché non garantirebbe testuali parole maggiore sicurezza. Lei come la legge? Meloni, per quello che penso io e per quello che conta sono d'accordo con lei che ci sono stati e ci sono tuttora dei ritardi nell'affrontare criticità come quella dei trasporti, come quella della scuola. Però io dall'altra parte sono convinto che magari un po' di chiarezza da parte di tutti e quindi ci metto anche lei nella giusta direzione che è chiaramente quella del vaccino magari servirebbe o no. Ma guardi io sono stata chiarissima non so dove lei ritiene che io non sia chiara. No no ma io non la sto accusando. Io dico un discorso generale. E allora no dice siccome anche lei anche lei cosa? Io sono stata chiarissima sono a favore della campagna vaccinale sono contraria all'obbligo vaccinale per questi vaccini sono contraria a questo utilizzo del Green Pass perché? Perché è la cosa più facile da fare. Cioè lo stesso Stato che dice che il Green Pass non ci vuole sui mezzi pubblici perché loro non sono in grado di fare i controlli poi dice che quegli stessi controlli li devono fare i ristoratori i baristi li devono fare persone che non hanno l'autorità per fare il lavoro che dovrebbe competere allo Stato. Sono risposte che io non condivido perché è uno Stato che tratta i cittadini come se fossero sudditi che fa sempre la cosa più facile perché non riesce a fare il suo lavoro che è mettere in sicurezza le scuole l'aerazione meccanica controllata i termoscanner all'ingresso l'ampliamento degli spazi il potenziamento dei mezzi pubblici cioè quello che competeva la politica no invece questo non si fa e si scarica tutto sui cittadini che devono fare quello che non fa lo Stato dopodiché sul piano anche diciamo sanitario siccome io lo voglio sconfiggere il Covid ok a differenza di quelli che negavano che ci fosse sui mezzi pubblici negavano che ci fosse sui barconi degli immigrati mi dice come lo sconfiggiamo qual è la ricetta di Giorgia Meloni allora io continuo a chiedere alcune cose che nessuno sta facendo dal punto di vista sanitario potenziamento dei mezzi pubblici no scusi dal punto di vista sanitario si deve continuare a fare il tracciamento ok dopodiché sicuramente bisogna continuare con la campagna vaccinale bisogna informare le persone invece di costringerle come sta facendo il governo si deve secondo me approfondire il tema del protocollo delle cure domiciliari che non si è capito perché non si può approfondire in Italia tachipirine vigile attesa è tutto quello che ci è riuscito a dire il ministro Speranza ma ci sono secondo me dei medici io non sono un medico ma insomma almeno li avrei convocati questi medici che sostengono che diciamo il covid trattato in tempo con determinati farmaci da banco e diciamo più difficilmente ricorda interamente avrei approfonditi al senato ieri non solo al senato ieri c'è stato un convegno organizzato da una senatrice leghista Palazzo Madama organizzato da un'associazione che non è un'associazione perché non è iscritta presenziato da un laureato non in medicina ma in scienze umanistiche in cui si parlava di liquirizia di ivermettina il famoso farmaco per purgare i cavalli e di altri farmaci così io credo che non è attraverso questa medicina alternativa o delle cure domiciliari a casa che si venga fuori dal covid senta guardi io non ho partecipato al convegno del quale lei sta parlando però ho parlato con diversi medici 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 laureati non io io non sono medico però sono un politico e il compito di un politico è approfondire e ascoltare ok io ho parlato con diversi medici che sostengono che c'è la possibilità diciamo di limitare il rischio di terapia intensiva utilizzando alcuni farmaci non lo so se è così o non è così su un piano medico però sono rimasta colpita dal fatto che il senato all'unanimità all'unanimità abbia approvato una mozione per chiedere al ministro speranza di approfondire questo tema di convocare queste persone e per tutta risposta il ministro ha fatto ricorso cioè qual è il problema di approfondire questo tema è questo che io non capisco vede non lo capisco per cui faccio delle domande proprio perché il mio obiettivo è combattere il covid con il green pass noi non combatteremo il contagio da covid mi dispiace perché purtroppo abbiamo scoperto i dati lo dicono non lo dice Giorgio Meloni che è una pericolosa novax lo dicono i dati che tu puoi vaccinarti bene perché vaccino utile per il vaccino elimina al 96% le terapie intensive al 97% il rischio di morte è abbastanza per raccontare per dire agli italiani vaccinatevi questo sto dicendo però non ferma il contagio ok quindi che cosa vuole fare il governo cioè il governo mi vuole dire perché secondo me è un tema molto interessante questo il governo potrebbe dire vuole fare il super green pass Meloni il governo come la mettiamo mi faccia finire un attimo i temi sono complessi e non mi piace affrontarmi no 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 prego allora se il governo ritiene i dati ce li hanno loro diciamo più chiari di quelli che posso avere io anche se si fa molta confusione anche su questi dati su quello che dice il cts eccetera ma se il governo dice guardate con i vaccini si blocca la terapia intensiva il rischio di morire per covid ok anche se non si blocca il contagio ma se questo fosse vero e io lo spero e allora obiettivamente il contagio non sarebbe più un problema giusto e quindi si potrebbe sostenere la tesi che il green pass era utile perché siccome poi alla fine si vaccinano più persone possibile non si traccia più il contagio la gente non muore più e noi siamo liberi e non rischiamo altre chiusure ma se il governo questo non lo fa come non lo sta facendo noi abbiamo fatto il green pass e arriveremo comunque a nuove chiusure e arriveremo a nuove chiusure perché il governo ha fatto un'informazione sbagliata sul green pass e sul vaccino dicendo alla gente che se tu ti vaccinavi eri libero in pratica quanta gente ha incontrato lei che diceva sono vaccinato e si toglieva la mascherina perché il presidente del consiglio ha detto in televisione se accedete in un luogo dove si entra solo col green pass avete la certezza di trovarvi tra persone non contagiose falso e questo ha portato secondo me comportamenti sbagliati da parte dei cittadini e se si torna alle chiusure che facciamo poi qualcuno lo dirà che era sbagliata questa scelta e che bisognava mettere in sicurezza i mezzi pubblici che bisognava mettere in sicurezza le scuole che bisognava mettere in sicurezza gli anziani che bisognava approfondire le terapie domiciliari che bisognava garantire il tampone gratuito perché la gente potesse fare un tampone cose banali che stiamo proponendo per cercare di fare un lavoro serio ecco e invece mi pare che il tema sia come sempre solo ideologico sulle terapie domiciliari proprio per cercare di evitare posizioni ideologiche se lei ci seguirà nel corso della nostra trasmissione questa sera cercheremo di sfatare qualche mito proprio di farmaci salvavita terapie domiciliari farlocche invito lei e anche i nostri telespettatori a seguirci per tutta la puntata ma gli italiani questo green pass insomma non lo vogliono ma guardi io penso che quello che penso sul green pass l'ho già detto penso che ci siano una serie di cose irragionevoli alla base di questo provvedimento che ne minano la credibilità perché ripeto io l'ho detto tante volte ma insomma lo ribadisco qual è l'evidenza scientifica di dire che se io entro entro al bar per prendere il caffè al bancone non mi serve il green pass e se mi metto seduto nello stesso bar sì o di dire che mi serve sul treno alta velocità ma non mi serve sulla metropolitana o di dire che mi serve se vado a mangiare al ristorante ma non mi serve se il ristorante sta dentro un albergo cioè lei capisce che il tema non è qui l'evidenza scientifica di fermare il contagio perché altrimenti queste misure non avrebbero molto senso il tema è imporre surrettiziamente l'obbligo vaccinale e su questo le ho detto come la penso insomma se il governo ritiene di fare questa scelta se ne assume la responsabilità però non può dire che usa il green pass per fermare il contagio quando sa che non è per questo che usa il green pass perché la politica deve dire la verità se no è evidente che la gente non si fida e questo è il grande problema al quale stiamo discutendo però obiettivamente non è normale che lo stesso Stato che dice che non è in grado di fare i controlli sui mezzi pubblici poi scarichi quei controlli su gente che non ha l'autorità per farli non è normale che lo stesso Stato che consente agli immigrati clandestini che sbarcano in Italia di rifiutarsi di fare il tampone e il vaccino poi pretenda che i baristi stiano lì a fare i gendarmi perché purtroppo non è il loro compito è il compito della forza pubblica è il compito dello Stato è il compito delle istituzioni è evidente che se le istituzioni non esercitano quel compito e poi lo scaricano come sempre su chi non si può difendere la gente chiaramente si arrabbia ma tutte queste cose mi sembrano solo la richiesta di una politica sensata che faccia il suo lavoro qualche giorno fa un somalo ha ferito su un autobus a Rimini cinque persone lei ha chiesto la sfiducia della ministra Lamorgese è ancora della stessa opinione? sì sono assolutamente della stessa opinione penso che il ministro Lamorgese non stia facendo il suo lavoro come dimostrano mille fronti aperti come dimostrano i 40 mila immigrati clandestini che sono sbarcati in Italia quest'anno il doppio dell'anno precedente credo otto volte tanto rispetto al 2019 nello stesso tempo in cui come ci siamo detti finora gli italiani vengono poste decine e decine di restrizioni mi pare che sia dimostrato anche dai fatti di Rimini perché non è solo il fatto di un appunto immigrato irregolare ma di una persona che era stata segnalata come persona pericolosa rispetto alla quale il Viminale non ha fatto nulla quella persona pericolosa segnalata come persona pericolosa perché già aveva dato in escandescenza quando mi pare appunto gli avevano chiesto di fare il tampone ha preso e ha coltellato un bambino di 5 anni di chi è la responsabilità? io credo che sia dello Stato che non fa il suo lavoro dopodiché abbiamo visto quello che è accaduto questa estate lo stesso ministro che ci multa i ristoratori che manifestano contro i provvedimenti del governo cosa che francamente io trovo molto pericolosa come precedente con 500 euro al mese e con 500 euro chiedo scusa anche se quei ristoratori manifestavano distanziati poi consente e addirittura pare che abbia scortato il ministero degli interni gli organizzatori di un rave party illegale che ha visto arrivare scappati di casa da tutta Europa che ballavano senza prescrizioni senza controlli con la droga gente che è morta stupri e nessuno ha fatto niente quelle persone se ne sono andate da sole e lei si è chiesto perché non siano andate da tutta Europa in Spagna o in Francia o in Germania o in Grecia o nelle altre nazioni perché sono venuti in Italia? sono venuti in Italia perché il nostro ministero degli interni non fa il suo lavoro esattamente per questo lo pensano anche voglio dire anche loro pensano come Draghi che la Morgese lavori benissimo sì i fattoni di tutta Europa lo pensano non lo penso io perché vorrei una nazione che facesse rispettare le regole e che non facesse invece la forte con i deboli e la debole con i forti Veroni so che ci deve lasciare di questo mi dispiace molto però ho almeno altre due domande da farle e le faccio velocemente gli italiani hanno anche preoccupazioni che esurano dal covid anche se probabilmente dipendono in qualche modo la bolletta energetica la bolletta elettrica si parla di un aumento del 40% che si fa? guardi noi stiamo presentando diciamo degli atti parlamentari per scongiurare questo aumento che è stato annunciato dal ministro Cingolani chiaramente non mi aspetto che un ministro mi annunci l'aumento del 40% delle bollette mi aspetto che mi dica come intende fermarlo chiaramente questo è un tema molto complesso che è difficile diciamo affrontare in pochi istanti perché questo aumento delle bollette è anche figlio di alcune scelte strategiche che sono state fatte a livello italiano a livello europeo cito insomma tutta per esempio la materia il tema green è un problema legato alle materie prime che sta preoccupando tantissimo tutti i nostri settori produttivi però ci sono delle cose che si possono fare sicuramente lo Stato potrebbe caricarsi la parte dell'aumento sicuramente c'è il tema diciamo della tassazione legata alle bollette sulla quale lo Stato può intervenire dopodiché bisogna fare alcune scelte strategiche che non sono solo italiane sono anche europee e che avevamo provato sommessamente a segnalare già da tempo come ci insegnano i nostri maestri l'intervista deve essere circolare allora torniamo a bomba green pass super green pass cosa dico adesso al mio assistente di studio il green pass tampone ogni ogni due giorni per entrare nel posto di lavoro anche in un'azienda privata che succede? come facciamo? succede che io ripeto non sono d'accordo per cui non lo chiedo a me lo chiedo al governo che cosa intende fare da questo punto di vista sicuramente secondo me se il governo vuole imporre il green pass anche per i luoghi di lavoro pubblici e privati deve consentire il tampone gratuito deve consentire il tampone rapido che ripeto oltretutto insomma il tampone è abbastanza sicuro ai fini diciamo del contenimento del contagio quindi a noi può aiutare anche un tracciamento insomma molto efficace per cui sicuramente non si può però sicuramente non si può scaricare il costo né sul lavoratore né sull'impresa perché il governo anche qui si deve assumere le proprie responsabilità fai delle scelte e dimostri facendo tutto quello che c'è da fare che credi nelle scelte che hai fatto invece noi continuiamo a avere governi che fanno delle scelte e scaricano la responsabilità delle scelte sui cittadini come il fatto di avere il green pass quando vai a fare il vaccino ti devi firmare lo scarico di responsabilità perché devo firmare lo scarico di responsabilità il governo che mi ha detto che mi devo vaccinare perché firmo lo scarico di responsabilità la responsabilità si assuma il governo no? Giorgia Meloni io la ringrazio per essere stata con noi questa sera l'aspetto presto ancora nella zona bianca che è sicura questa sì sicuramente è safe su Rete4 grazie ancora per essere stata con noi buon lavoro buona serata c'è una campagna elettorale molto tosta da proseguire noi invece continuiamo proprio su questo